SuperSite 10 ti permette di cambiare la lingua dell'editor e di creare un sito multilingua. Una volta che hai impostato una lingua come predefinita, non ti è possibile cambiarla, se non dopo aver resettato il sito web. Per maggiori informazioni su come eseguire il reset del tuo sito web ti consiglio di visionare il tutorial dedicato. Per cambiare la lingua dell'editor accedi a SuperSite e clicca sulla prima icona del menu superiore. Si apre un menu laterale con evidenziata la voce Editor Sito. Clicca sulla voce Il tuo account e poi su Impostazioni. A questo punto viene mostrata la schermata da cui ti è possibile selezionare la lingua che preferisci. Infine salva i dati. Nel caso sia necessario creare un sito multilingua, clicca all'interno del menu superiore sulla sezione che riporta il nome della pagina corrente. Nella finestra che viene mostrata, clicca sul pulsante indicato. Dal menu a tendina, seleziona la lingua che vorresti aggiungere al tuo sito web. La lingua da te scelta sarà la lingua di default del sito. Clicca sul pulsante Successivo. Dal menu a tendina, scegli se modificare la lingua di alcune pagine del sito abilitando il checkbox relativo alle pagine in questione. Oppure scegli se modificare la lingua a tutte le pagine del sito web. Una volta che hai effettuato la scelta, clicca Successivo. Assegna un nome alle pagine in lingua e procedi dal pulsante indicato. Infine, clicca su Fatto per ultimare l'operazione. Una volta terminata la procedura, nel pannello di gestione di Supersite ti apparirà la sigla della lingua di default, da cui ti è possibile scegliere una delle lingue gestite. Le pagine Blog, Negozio e la sezione Appuntamenti vengono tradotte automaticamente, a seconda di come è impostata la lingua predefinita del browser. Per modificare il testo delle pagine in lingua, devi cliccare sull'icona della lingua come mostrato e selezionare la lingua da te desiderata. Supersite ti reindirizza alla home page in lingua, in questo caso inglese, da cui potrai gestirne il contenuto. Dal menu delle pagine posto in alto, puoi visualizzare le pagine attualmente presenti per il tuo sito in lingua, in modo da poterle gestire, crearne di nuove o rimuoverle. Per rendere effettiva la gestione delle lingue, procedi con la pubblicazione. Una volta pubblicate le modifiche, gli utenti visualizzeranno in alto un menu, creato in automatico dal sistema, che riporterà le lingue abilitate e potranno selezionare la lingua in cui navigare.